Alcohol Test Marketing Italy distribuisce i prodotti in Italia ed Europa a dispositivi medico-diagnostici, veloci per accertare simultaneamente con un solo prelievo di saliva o di urina l'abuso di sostanze stupefacenti psicotrope, i metaboliti, derivati ed alcol. Ciò contribuisce a migliorare la sicurezza stradale e le azioni di prevenzione per tutti i cittadini. Alcohol Test Marketing Italy è attiva nel campo della prevenzione, offrendo un valido contributo alle forze dell'ordine e ai medici competenti del lavoro, attraverso progetti per la sicurezza e strumenti ufficiali.